Ben trovati ancora ad ora TG, in primo piano la cronaca a Catania, percepivano il reddito di cittadinanza ma erano benestanti giocatori d'azzardo e persino condannati. Gli ha smascherati la guardia di finanza di Catania, devono restituire, sono 78 le persone coinvolte, oltre un milione di euro. Sentiamo i dettagli. C'era il giocatore d'azzardo, chi aveva avuto inflitte condanne e penali anche gravi e anche chi economicamente non se la passava certo male. Come proprietari di più immobili, auto di grossa cilindrata e moto, un parterre di 78 soggetti, quelli scovati dalla guardia di finanza, che ha segnalato alla procura della Repubblica nuovi indebiti percettori del reddito di cittadinanza. Una grossa fetta di non aventi diritto dopo i 18 già individuati lo scorso ottobre, sempre dalle fiamme gialle etnee, che avevano procurato un danno alle casse dello Stato di 240 mila euro. Stavolta i furbetti nel complesso avevano beneficiato di un milione e duecentomila euro. In particolare i militari della Compagnia di Catania, attraverso una mirata attività di intelligence, anche grazie alla stretta sinergia e allo scambio di informazioni con l'Inps, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, sono riusciti ad individuare una platea di soggetti che presentava notevoli criticità sul possesso dei requisiti necessari per avere riconosciuto il reddito di cittadinanza, tra questi, come dicevamo, anche condanne per reati gravi. Nella platea di soggetti controllati non potevano di certo mancare i giocatori d'azzardo online, la scoperta di un giocatore che aveva realizzato vincite per oltre mezzo milione di euro. Altrettanti numerosi sono stati i beneficiari che avevano possedimenti, tra questi motocicli, autovetture di grossa cilindrata e immobili di pregio, tra questi spiccava un proprietario di ben quattro appartamenti, un magazzino e un'autorimessa, un ereditiere di quasi 400 mila euro in valori immobiliari e mobiliari, che ha omesso, tra l'altro, di comunicare l'esercizio di un'attività commerciale da parte del congiunto. Un soggetto cancellato dall'anagrafe della popolazione residente unitamente a diversi lavoratori in nero. Gli indebiti percettori sono stati denunciati all'autorità giudiziaria, oltre che segnalati all'Inps per la sospensione del beneficio e il recupero delle somme erogate. L'attività di controllo testimonia l'impegno della Guardia di Finanza nell'azione di contrasto ad ogni forma di illecito, nel caso di specie a danno della spesa pubblica nazionale. E ancora per la cronaca ci spostiamo nell'agrigentino, giovani disabili picchiati e derisi sui social. Tre persone sono state fermate per questi terribili fatti e è accaduto esattamente a Licata. La violenza, quella gratuita, è ancora più atroce perché indirizzata verso i più deboli. Gli indifesi che non hanno la forza di reagire i ragazzi disabili, tre quelli presi di mira da altrettanti soggetti che sono stati fermati a Licata perché indiziati di delitto. I fermi firmati dal procuratore Luigi Patronaggio e dalla PM Gianluca Caputo ed eseguiti la notte scorsa nella provincia agrigentina. Una delle vittime è pestata con un bastone, immobilizzata con del nastro adesivo fissato a gambe e braccia e abbandonata per strada fino a che una donna di passaggio non si è accorta di quanto stava accadendo e lo ha liberato. Ma c'è dell'altro. I tre diversamente abili sarebbero stati anche umiliati con della vernice spalmata sul viso e poi derisi sui social scagliati verso il cyberspazio dove purtroppo c'è anche chi questi episodi non li condanna. Tutto questo dopo essere stati legati ad una sedia con un secchio in testa e picchiati, una vergogna che in realtà dovrebbe esclusivamente ricadere su chi queste cose le commette. Calci, pugni, bastonate, pene corporali e insulti verbali e le minacce di morte. Tutto documentato e spiattellato sul web. Gesti di cui si sono macchiati Antonio Casaccio, Gianluca Sortino e Angelo Marco Sortino rispettivamente di 26, 23 e 36 anni. Per loro è attesa la convalida del fermo chiesta dai PM. Assolto perché il fatto non sussiste, dopo cinque anni e mezzo si chiude il procedimento penale nei confronti dell'allora assessore comunale Rori Pietro Paolo. Siamo ad Acireale e la vicenda investì il politico che rassegnò le proprie dimissioni. Sentiamo. Tanto rumore per nulla. Una liberazione per l'allora assessore alla polizia locale, imprenditore molto noto in città, Rori Pietro Paolo, che cinque anni e mezzo dopo il fermo dei lavori di consolidamento strutturale del muro perimetrale di un'area dell'edificio dell'abitazione di famiglia in via Cavour, in pieno centro storico di Acireale, è stato assolto per insussistenza dei fatti insieme al resto del proprio nucleo familiare. Non c'è stato reato dunque nei manufatti crollati per le intemperie, durante i lavori di consolidamento peraltro autorizzati dalla sovrendendenza etnea, in cui veniva sottolineata la fattispecie della salvaguardia storica del sito. All'epoca dei fatti Pietro Paolo, investito dalle polemiche, si dimise dalla giunta di governo pressato dalle opposizioni e dall'agogna mediatica scatenata sui social. Un danno sul piano politico e imprenditoriale per il giovane manager dell'azienda di famiglia che si occupa di vigilanza privata. Le opere di consolidamento si resero necessarie per gli avvallamenti apparsi alla base del muro di cinta, ammalorato dal peso dei secoli per il quale erano stati avviati i lavori di messa in sicurezza attraverso una serie di interventi che avrebbero comunque salvaguardato il prospetto fronte strada. Le forti piogge causarono crolli e scattarono i provvedimenti di blocco dei lavori seguiti da una serie di attacchi sul piano personale e politico. Un tormentone durato mese in cui si è detto di tutto e il contrario di tutto, le carte raccontavano però un'altra verità ma nessuno si è preso la briga di leggerle attaccando a testa bassa l'esponente politico. A cinque anni e mezzo dall'accaduto arriva la sentenza perentoria perché il fatto non sussiste, si legge nel dispositivo della sezione penale che mette la parola fine ad una vicenda che fece molto rumore in città. All'epoca quando chiedi le mie dimissioni e organizzai una conferenza stampa portai tutta la documentazione a supporto di quello che io ho sostenuto. Oggi questa sentenza chi ha la possibilità di leggerla dice passo passo tutto quello che io ho sempre sostenuto. Noi parliamo di un immobile che era ammalorato da anni dove tecnici che non erano neanche tecnici miei ma erano tecnici del vecchio proprietario avevano già chiarito e scritto su carta che l'immobile era un immobile ammalorato soggetto a crolli, sicuramente a crolli importanti nel momento in cui venivano fatti dei lavori e soprattutto con l'aumento delle piogge. Tant'è vero che in quel periodo forse qualcuno non ricorda ci fu un giorno proprio il giorno precedente al crollo un'allerta meteo con un temporale fortissimo e vento e crollarono altri muri della città compreso questo quindi non vedo quale sia il danno e soprattutto voglio dire è importante quando uno scrive e si mette davanti una sera a scrivere legga prima le carte se avessero letto le carte sicuramente si sarebbero reso conto che il crollo poteva avvenire come già aveva scritto la soprintendenza perché la soprintendenza ne lasciò il parere aveva evidenziato l'ammaloramento dell'immobile e l'avevo anche scritto quello che voglio dire lei dice bene l'immagine però sa io penso che ognuno di noi ha una storia quindi non è il singolo episodio che dimostra e conferma la storia di una persona ma è tutto nell'arco di una vita e io penso che i Pietro Paolo tutti da mio padre da mio nonno e oggi da me abbiamo una storia dietro le spalle e questa è l'ennesima conferma chi sono i Pietro Paolo hanno aspettato in silenzio cinque anni che la verità venisse fuori e quindi oggi noi siamo contenti ma soprattutto per la città sperando che ci permettono di ricostruire quello che già c'era migliorato sicuramente nei colori e nel in tutta la struttura perché io ripeto io facevo politica perché amo la città non come qualcuno che ama il posto dove sta seduto io ho dato dimostrazione nel momento avuto il problema mi sono dimesso senza neanche pensare un secondo non guardando nel potere nel denaro niente io lavoravo per la mia città e forse questa è stata la mia colpa lavorare per la città senza avere nessuno scopo diverso da questo e forse sono stato condannato per questo stiamo ancora ad acireale per una notizia curiosa due oggetti non identificati di colore azzurro sono stati abbistati ed immortalati in piazza duomo da un fotografo professionista pochi giorni fa era accaduta una cosa simile a riposto sentiamo l'autore degli scatti è il fotografo professionista alfredo consoli che ieri intorno alle 12 ha realizzato questa sequenza fotografica in cui appaiono due anomale presenze di colore azzurro in veloce movimento in corrispondenza del sole e non si tratterebbe di un riflesso ottico per effetto della controluce i due oggetti non identificati assicura consoli per alcuni secondi hanno attraversato il cielo sopra piazza duomo da cereale con movimenti veloci prima di separarsi e scomparire del tutto senza un'apparente spiegazione insista ancora scosso per essere stato testimone oculare di un evento raro quanto inspiegabile rafforzato da altri avvistamenti analoghi avvenuti nei giorni scorsi e testimoniati da altri accesi che visionate le foto pubblicate sulla pagina social del fotografo hanno confermato di aver avvistato gli stessi corpi identici nel colore forma e movimenti afferma il signor roberto pennisi appassionato di ufologia testimone oculare di altre anomale presenze nei nostri cieli stamani la nostra truppa ha ripreso dallo stesso punto e angolazione il cielo sopra cereale ma non ci sono stati avvistamenti di oggetti non identificati gli ufo a quanto pare periodicamente ci fanno visita le immagini ritraggono quella che all'apparenza sembra una grossa nuvola di forma circolare nel cielo di riposto dietro cui si celerebbe un grosso disco volante la foto diffusa dai social dieci giorni fa fece molto scalpore e diede in là centinaia di libere considerazioni tra convinti sostenitori di popoli evoluti abitanti della galassia che periodicamente vengono a farci visita e i negazionisti ai nostri microfoni la ricostruzione di affredo consuli il fotografo che ha immortalato la coppia di presunti ufo solvorare da una distanza imprecisata il salotto buono della città è stato un attimo stavo fotografando qua la cattedrale tra le nuvole ho visto queste queste luci spiegabili ecco nelle foto nelle foto sì sì ma io stavo proprio scattando col telefono così mi stavo passando il tempo era una giornata un po nuvolosa e queste lucette sono apparse e scomparse in un attimo che cosa è spiegabile secondo lei è spiegabile sì certo un riflesso ottico non ne ho idea secondo lei comunque non si capisce non si capisce assolutamente però hanno lasciato un po così perplesso sì sì un po basito ed intanto ancora danni per il vento la scorsa notte ha danneggiato un lampione dell'illuminazione davanti la chiesa di santa maria alla stella daci sant'antonio il corpo illuminante è precipitato al suolo fortunatamente non ci sono stati danni né a persone né a cose l'area stamani è stata messa in sicurezza in attesa di riparare il danno i lampioni sono stati installati un paio di anni fa adesso ci spostiamo ancora a catania per parlare del servizio rifiuti perché è stata inaugurata oggi la terza isola ecologica in città sentiamo è il terzo ecopunto mobile per il conferimento dei rifiuti differenziati attivato a catania nel giro di un mese dopo quelli di via generale a meglio e via santa media della catena ecco apparire i contenitori differenziati per i rifiuti in via amerigo vespucci all'interno dell'ex mercato ortofrutticolo di san giuseppe l'arena oggi l'inaugurazione del sistema di raccolta differenziato aperta ai cittadini dal lunedì al venerdì dalle 8 e 30 alle 14 e 30 e dove sarà possibile conferire sfalci di potatura rifiuti ingombranti voluminosi piccoli scarti edili dovuti a costruzioni o demolizione inoltre nelle giornate del lunedì e del venerdì potranno essere recapitati anche carta cartone plastica vetro e organico questo è uno dei quartieri di catania in cui frequentemente si lamenta la formazione di micro discariche è una svolta per far sì che questa zona che è così importante ripeto perché c'è l'aeroporto vicino c'è un albergo ci sono delle attività commerciali e quant'altro secondo me andrebbe rivalutato quindi questo potrebbe essere l'inizio per fare in modo di ridurre se non addirittura azzerare tutti questi rifiuti che vengono abbandonati in modo indiscriminato e veramente incivile in tutta questa zona e vedere di rivalutare questa piazza che secondo me potrebbe dicevo proprio questo all'assessore che secondo me va rivalutata va restaurata e va restituita agli abitanti della città ma anche a noi che passiamo per andare in aeroporto o agli turisti che arrivano in città e comunque sta andando bene il percorso perché in questi primi giorni nelle altre due isole ecologiche sono stati già raccolti oltre 27 mila chili di rifiuti differenziati sì e questo ci incoraggia a promuoverlo ulteriormente in effetti tenere a casa spesso per una settimana un rifiuto differenziato può diventare motivo ecco di avere meno spazi nell'ambiente domestico sapere che puoi andare a portare quando vuoi tu entro fine gennaio completeremo l'apertura di queste quattro isole ecologiche mobili siamo felici che i cittadini stanno rispondendo in modo migliore e non mettere in secondo piano il fatto che non solo diamo un'opportunità a chi vuole differenziare i rifiuti e non tenerli a casa e quindi poter conferire ogni giorno la plastica, la carta, il vetro, gli ingombranti ma nei punti in cui arriviamo riportiamo sicurezza e decoro perché ricordiamo che questi qua sono siti che erano abbandonati a se stessi da tanti anni da qui abbiamo tolto rifiuti speciali, rifiuti che comunque erano pericolosi per quella che è l'igiene pubblica e abbiamo messo un cancello quindi impedito che possano avvenire qui ulteriori abbandoni Ed ora ancora la cronaca si allenavano in palestra nonostante le restrizioni anti-covid li ha scoperti a Paternò la Guardia di Finanza sono stati sanzionati il titolare della palestra e cinque clienti sorpresi ad allenarsi in un primo momento il proprietario ha detto che si allenavano per una gara ma poi non ha saputo fornire i dettagli i militari hanno notificato al titolare cinque clienti verbali di accertamento che prevedono una sanzione amministrativa fino a 3.000 euro è prevista anche la sospensione dell'attività ha sanzionati anche i clienti E restiamo in tema covid ma parliamo appunto della crisi legata alla pandemia adesso basta con le chiusure degli esercizi di ristorazione la Fipe Conf Commercio scende in piazza e annuncia l'apertura dei propri locali ai clienti a partire dal prossimo primo febbraio No alla zona rossa, no alla chiusura dei bar, dei ristoranti, delle pizzerie, delle attività di somministrazione Fipe Conf Commercio conteste provvedimenti restrittivi adottati dal governo nazionale e da quello regionale e con un sit-in in via etnea chiede si ritorni a lavorare spiegando perché sia possibile riaprire le attività innanzitutto perché i ristoranti, i bar e i negozi non sono luoghi primari di trasmissione del covid come sostenuto dall'OMS poi la trasmissione del covid è più diffusa in riunioni presso primo o seconde case dove è impossibile esercitare il controllo quindi ridurre gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali come si è fatto, non ha prodotto alcuna riduzione dei contagi insomma, i ristoratori non sono degli untori Nella zona rossa, nella zona arancione, neanche quella gialla a noi appartiene noi abbiamo dimostrato in un anno di essere coloro che hanno rispettato davvero le regole e di non essere degli untori perciò pertanto dopo un anno possiamo anche dire che possiamo ritornare al lavoro perché questa storia che i ristoranti devono stare chiusi e tutto resta aperto a noi adesso è stancata questa storia la cosa che dà ancora più facile è sapere che stamattina sappiamo che la buvette del governo regionale è aperta perciò i deputati vanno a mangiare al ristorante mentre noi restiamo qui chiusi mi dispiace, questo non ci sta più bene loro predicano bene e razzano male noi invece a sua volta, essendo che non siamo untori e siamo degli imprenditori imprenditori che si scommettono tutti i giorni abbiamo l'esigenza a questo punto di ritornare al lavoro E la data è già stata fissata? Noi dal giorno 1 dobbiamo riaprire non abbiamo più motivo di essere diplomatici con queste persone ci fanno i verbali, ma non ce ne frega più niente a questo punto anche l'OMS lo dice i ristoranti non sono punto di ritrovo e di conseguenza di contagio perché abbiamo adottato dal primo momento tutti i protocolli Covid con distanziamento sociale, con le sanificazioni Fare un'apertura morbida, quindi in piena sicurezza con un numero contingentato ai tavoli con grandi attenzioni, con serietà anche perché siamo convinti e credo che i fatti ci diano ragione che non sono i ristoratori il punto di diffusione del Covid Insomma, proprio i ristoratori non riescono più a portare il pane a casa Non arriva un ristori, non arriva nulla, non ce la facciamo più abbiamo bisogno solo di lavorare non abbiamo nulla a differenza di un negozio di abbigliamento di un centro commerciale, di un mercato di tutto quello che è diciamo l'economia Nei pressi del sit-in un fuori programma che non ha nulla a che vedere con la manifestazione di Fipe Commercio l'intervento cioè della polizia che ha fermato un uomo, ma come dicevamo nulla a che vedere con il sit-in dei ristoratori E all'interno della categoria c'è chi non si sente rappresentato dalle associazioni già esistenti nasce a Catania un nuovo raggruppamento si chiama Ristoratori Siciliani Indipendenti È un movimento autonomo a cui aderiscono oltre un centinaio di ristoratori locali che non si riconoscono più nelle tradizionali sigle sindacali perché dicono abbandonati dalle varie associazioni a livello nazionale e regionale Ristoratori Siciliani Indipendenti fa il suo debutto a Catania con un sit-in in piazza Stesicoro tenendo ben saldi alcuni principi i ristoratori sono imprenditori che chiedono solamente di lavorare e dall'altro lato i ristoratori sono cittadini come tutti gli altri che pagano le tasse e che non vogliono essere dimenticati Un governo incompetente dove per colpa di quattro sfaccendati che hanno seguito un capo comico ci hanno ridotto in questa maniera con la complicità o il disinteresse delle associazioni di categoria le associazioni di categoria che sono quelle che dovrebbero rappresentare che sono quelle che dovrebbero far valere i diritti dei propri associati non hanno fatto nulla è da un anno che noi siamo ostaggio di una dittatura democratica ma sempre dittatura è noi non capiamo perché non possiamo lavorare quindi a un certo punto siamo detti noi siamo abbandonati siccome siamo imprenditori e siamo capaci di fare e di produrre anche posti di lavoro stiamo pensando alle nostre famiglie e alla famiglia dei nostri dipendenti e dei nostri collaboratori quindi noi scendiamo da oggi in campo questo è ristoratori siciliani indipendenti non dipendiamo da nessuno né politicamente né come associazione di categoria Il momento economico è particolarmente travagliato anzi è stato del tutto azzerato per i ristoratori chiari dunque le rivendicazioni Noi vogliamo rispettare il DPCM vogliamo rispettare le regole però vogliamo un DPCM come quello che c'è nei mercati perché i mercati sono aperti come ci sono nei grandi magazzini come la Rinascente che ci sono nei negozi e soprattutto se noi andiamo al porto nei vari porti italiani nelle varie stazioni negli aeroporti e negli ospedali i bar e le menze al pubblico sono aperti si ci può sedere e si può consumare e allora se là hanno riescono a non far trasmettere il virus vogliamo le stesse regole che vagano per noi perché noi abbiamo le famiglie da mantenere siamo arrivati e non possiamo più sopportare questo schifo erogazione di servizi nessuna quota associativa e la riapertura dei ristoranti noi siamo entrati siamo in un loop dove siamo il capro espiatorio dove siamo l'alibi di un governo che dal primo lockdown adesso al gioco dei colori non è riuscito a fare nulla nel frattempo il virus cosa ha fatto? ha camminato nei mezzi pubblici ha camminato negli uffici e ha camminato negli ospedali perché non sono stati in grado di gestire questa pandemia però adesso non è giusto che solo una categoria con i propri lavoratori venga azzerata per la loro incompetenza quindi ribadisco i colori sono una fesseria i ristori se li tengono loro noi vogliamo l'indennizzo si chiama indennizzo perché se tu mi fai chiudere l'attività mi devi pagare ma mi devi pagare non con il 15% sul mese di aprile ipotetico secondo il fatturato tu mi devi pagare con il 75% del fatturato stiamo a due mesi stiamo a tre mesi il 75% del fatturato perso intanto voltiamo ancora pagina oggi 27 gennaio si celebra la giornata della memoria e si intitola Shoah Rap il brano realizzato dal coro di voci bianche del Bellini sullo sfondo Catania per dire no alla violenza il servizio di Guenda Garozzo la scuola che istruisce insegna offre opportunità educative come quella della celebrazione della giornata della memoria oggi 27 gennaio è il piccolo seme di parole e pensieri di un ragazzo di 12 anni Gabriele Rinaldi che esce dalle pagine di un quaderno dimenticato e che viene oggi alla luce germoglia e fiorisce con l'elaborazione musicale composta dalla mamma la maestra del coro interscolastico di voci bianche Vincenzo Bellini di Catania Daniela Giambra Camine di comando a forni crematori persone lì entrate siete in tutti i cuori Il video show a rap rende particolarmente emozionante questa giornata appuntamento educativo che offre ai ragazzi l'opportunità di riflettere sulla tragedia della Shoah e contribuisce alla formazione di una coscienza civile a difesa dei diritti dell'uomo Ogni parola nel canto diventa lezione per i ragazzi del coro che per primi hanno imparato quei versi e si trasformano un messaggio forte per le coscienze di quanti ascoltano il testo sul ritmo rap che piace ai giovani e che con convinzione ripetono a se stessi e agli adulti se vuoi cambiare se vuoi cambiare puoi educare al rispetto delle differenze contro ogni forma di violenza e discriminazione l'ispirazione del video rap è nata durante a una visita alla comunità ebraica e alla sinagoga di Roma Le parole taglienti di Gabriele prendono fiato nella forza espressiva di Enrico Guercio ragazzo di seconda media della scuola Carducci di Catania che rimprovera Hitler capelli neri e cervello da malato per i danni provocati ai tantissimi ebrei Per le riprese video sono state scelte la costa mediterranea come le spiagge di Israele l'oasi del Simeto il boschetto della playa nel comune di Catania il fiore rosso del finale unico tra il bianco delle tuniche delle lenzuole dei fiori rievoca il film Schindler List diretto da Steven Spielberg dedicato al tema della Shoah il lago oscuro attorno al quale i bambini ascoltano le urla naziste rappresenta il lago artificiale di Birkenau nel quale venivano gettate le ceneri dei forni nel video le fiamme dell'inferno rosse si trasformano in nuvole bianche tra le quali prendono il volo le tuniche raffiguranti le anime dei bambini ebrei che diventano gabbiani in volo sullo splendido mare dell'aurora della scogliera catanese tutte queste anime sono morte per noi per farci capire che se vuoi cambiare cuore da tutti gli orrori puoi cambiare questo mondo che nell'aria nasce un male profondo restiamo in tema il sindaco di acirale Stefano Allì ha deposto questa mattina in concomitanza con il giorno della memoria un mazzo di fiori dinanzi al ceppo commemorativo dedicato alle vittime della Shoah installato su piazza Garibaldi accanto all'albero di ligustro piantumato nel 2019 alla presenza di Franco Perlasca figlio del più celebre Giorgio che come è noto salvò migliaia di ebrei a fianco del primo cittadino anche gli assessori Mario Di Prima Palmina Fraschilla e Daniele Larosa nonché la presidente del consiglio comunale a botto di consiglieri Fabio Fontanesca Angela Marino e Vincenzo Maresca oggi ricordiamo le vittime della Shoah ha detto il sindaco Ali ma esistono tragedie che sono un po' più indietro negli anni come lo sterminio degli armeni in Turchia e sembra che da queste vicende non riusciamo a imparare e capire ciò che succede anche per via dell'indifferenza queste dunque le parole del sindaco di Acireale la città il comune ha organizzato diverse iniziative sul web per celebrare la giornata torniamo alla sisma di Santo Stefano sono stati finanziati gli interventi di recupero e messa in sicurezza della chiesa di Acci Platani a metà del mese di febbraio inizieranno i lavori di messa in sicurezza nella chiesa di Santa Maria del Monte Carmelo di Acci Platani nel territorio di Acireale il luogo di culto chiuso per le conseguenze del sisma del 2018 ha ottenuto un finanziamento di 260 mila euro dall'assessorato regionale delle infrastrutture la struttura presenta vistose crepe sul colonnato del campanile oltre a diverse fenditure sui muri perimetrali che ne hanno compromesso la staticità l'area sottostante la torre campanaria era stata messa in sicurezza dall'intervento dei pompieri come pure alcune manufatti che presentavano parziale punti di cedimento per la comunità parrocchiare della popolosa borgata la notizia del finanziamento è stata accolta come una liberazione dopo anni di incertezza e chiusura forzata delle funzioni religiose per ragione di sicurezza soddisfazione è stata espressa anche dal consigliere Gaetano Di Mauro riferimento politico del territorio leader del finanziamento avviato dall'amministrazione Barbagallo include anche altre opere come il palazzo che ospita la sede del commissariato di pubblica sicurezza e gli uffici del giudice di pace la precedente amministrazione si è mossa anche per i fondi relativi alla mitigazione del rischio idraulico ad Aciplatani invaso da fiumi di acqua piovana provenienti dalle zone a monte per assenza di un efficiente sistema di reggimentazione con allagamenti e strade impraticabili la sistemazione della chiesa insieme agli altri lavori calendarizzati rappresenta un punto di ripartenza per l'intera comunità platanese è stato completato tutto l'iter per la gara dell'affidamento dei servizi di ingegneria per la direzione dei lavori siamo stati la scorsa settimana con il direttore dei lavori appunto a cui è stato dato l'affidamento e contiamo di iniziare entro i primi 15 giorni di febbraio i lavori assieme alla ditta che ha vinto la gara sono lavori importanti richiesti da tempo dalla comunità si sono lavori che riguardano innanzitutto la parte statica del campanile molto importante per la quale sotto è stato creato un piccolo ponteggio di protezione che verrà poi successivamente ovviamente tolto e ci sono anche dei lavori impiantistici per un totale di 260 mila euro complessivamente e per questa edizione è tutto ora TG torna come sempre puntuale in diretta alle 19.45 grazie di averci seguiti adesso c'è il meteo arrivederci le previsioni in meteo per la giornata di giovedì 28 gennaio 2021 il cielo sarà prevalentemente soleggiato sulla Sicilia ma di calmi venti moderati le temperature massime nell'isola da 16 ad 8 gradi a Catania 16 gradi la massima 7 la minima 6 laaisa la